pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa domenica celebriamo con gioia la solennità dell'ascensione al cielo di gesù è un modo per dire che gesù risorto con tutta la sua umanità glorificata torna al padre nella dimensione divina dunque l'ascensione non celebra l'assenza del signore ma un diverso modo del suo essere presente asceso al cielo presso il padre intercede per noi invia lo spirito santo lo spirito santo rende presente gesù in mezzo a noi che agisce opera per mezzo della chiesa e forma cristo in noi ci conforma a lui lo vedremo nella pentecoste dunque l'ascensione ci dice che il signore gesù è nella gloria e il signore alla destra del padre esercita la potestà di dio ma al contempo è presente in mezzo a noi nascosto e operante per mezzo della chiesa pensate che mistero grande briciolina di teologia la seconda persona della santissima trinità si è fatto vero uomo muore risorge torna al padre anche con la sua umanità glorificata quindi per l'eternità una delle persone della trinità sarà anche per sempre vero uomo pensate quanto dio si sia compromesso per ciascuno di noi dopo questo piccolo volo contemplativo ritorniamo sul pianeta terra prima di immergerci nel testo di oggi ci si potrebbe chiedere ma non sarebbe stato tutto più semplice se il signore fosse rimasto visibilmente presente in mezzo a noi oltre a dei profondi motivi che ora non abbiamo il tempo di esplicitare possiamo anche cogliere due aspetti esistenziali molto belli anzitutto dio non è una presenza invasiva sostitutiva ma dio è amore dunque ama fare un passo indietro per farci crescere negli atti degli apostoli dove è descritta l'ascensione al cielo che leggiamo nella prima lettura è evidenziato il distacco che dice poli vivono che li spiazza un po della serie ma come proprio ora te ne vai in realtà gesù non se ne va lo spirito santo continua a renderlo presente tra noi ma il ritorno di gesù al padre segna l'inizio dell'avventura dei discepoli cioè io sono con voi e in voi per mezzo dello spirito santo ora tocca a voi andate io vi insegno ad amare vi do la grazia di amare ora tocca a voi mettervi in gioco andate vivete la mia parola nell'andare in missione nell'andare incontro agli altri nel mettervi in gioco per vivere secondo la mia parola vedrete la mia opera in voi e con voi vedete nella vita per far crescere a volte è necessario fare un passo indietro se è un genitore imposto all'educazione versione la piovra 5 che in tutto e per tutto c'è lui se sostituisce lui ai figli non li aiuterà a crescere un genitore deve mettere in condizione il figlio di prendersi le sue responsabilità e affrontare le sfide della vita la vita potremmo dire si evolve grazie a una serie di distacchi pensiamo ad esempio all'embrione che ad un certo punto deve staccarsi dal corpo della madre per vivere la sua vita autonoma o l'adolescente che tende a staccarsi dall'alveo familiare per vivere relazioni di gruppo o all'adulto che perdonarsi più profondamente a qualcuno dovrà staccarsi da certe dinamiche di gruppo amicizie che lasciano il tempo che trovano passando anche per il distacco del lutto dove ad esempio il genitore passa definitivamente il testimone al figlio o alla figlia insomma la vita cresce per distacchi ci sono dei distacchi che ci fanno crescere 2 i signori vuole che esercitiamo la nostra libertà ti immagini se gesù risorto fosse costantemente visibilmente a fianco a te la libertà dove sarebbe con quanta libertà sceglieresti cosa fare cosa non fare quanto cercarlo quanto non cercarlo quanto potresti davvero crescere e maturare ma sarebbe più facile non è vero vivresti alla fine tutto come un peso ecco il signore ci tiene alla nostra libertà lui ci ha resi capaci di sé di ascoltarlo di incontrarlo di percepirlo ma per lui è sacro il se vuoi quanta bellezza nel signore presenza amorevole e responsabilizzante mi viene in mente una storia in una tribù il rito di passaggio nell'età adulta era superare una prova il ragazzo doveva trascorrere da solo una notte bendato nella foresta il padre accompagna suo figlio lo benda e inizia la prova del ragazzo immaginate bendati nella notte nella foresta rumori versi di animali frusci questo ragazzo tremava dalla paura ma resiste iniziano le prime luci dell'alba sorge il sole finalmente può sbendarsi la prova è superata ma quanto grande fu il suo stupore quando voltandosi vide suo padre che tutta la notte in silenzio gli era rimasto accanto proteggendolo ma non togliendogli la fatica e la soddisfazione della prova affrontata e superata quanto abbiamo da imparare dallo stile di dio anche noi sacerdoti religiosi religiose quanti siamo chiamati a prenderci cura delle anime perché talvolta anziché esercitare una paternità spirituale o una maternità spirituale si esercita uno spadroneggiamento spirituale dove anziché aiutare le persone a crescere nella docilità la voce dello spirito e nella sequela di cristo dando anche indicazioni chiare e ferme laddove necessario le si trasformano invece in degli automi legandole a sé spersonalizzandole e defraudandole del tesoro meraviglioso della libertà al punto che una persona tra un po anche per andare in bagno ha bisogno di consultarsi con colui o colei che tra virgolette la dirige spiritualmente ora ritornando al testo vediamo l'invio che gesù risorto fa ai discepoli alla chiesa ad evangelizzare testimoniando la lieta novella cioè l'amore di dio che salva che trasforma la vita a celebrare i sacramenti il culto a immergere in dio quanti credono e i segni che accompagnano coloro che credono nel suo nome coloro che vivono uniti a gesù quindi vivendo in comunione con lui manifestano la sua presenza in loro e questa presenza si manifesta attraverso dei segni sui quali ci soffermiamo un momento quali sono questi segni sono cinque primo scacceranno demoni oltre all'attività esorcistica di chi ha questo ministero nella chiesa c'è il fatto che la persona che vive unita a cristo mette in fuga il maligno è forte contro la tentazione e libera dalla tentazione altre persone tutti quei ragionamenti contorti che incastrano le persone le rinchiudono in se stesse impedendole di aprirsi a dio agli altri quante persone si sono riavvicinate a dio si sono riconciliate con lui grazie a un amico un'amica un parente a qualcuno credente stando a contatto con il quale parlando con il quale lo ha aiutato ad aprire mente e cuore questo direbbe sant'agostino è possibile perché perché quella persona ti parla e tocca i timpani intanto lo spirito santo ti tocca il cuore secondo parleranno lingue nuove ecco non vediamo solo capacità particolari esempio padre pio che rispondeva a lettere in altre lingue senza averle studiate non pensiamo neanche ai fenomeni solo della glossolalia di cui parla san paolo ma pensiamo al fatto che la persona piena di dio parla una lingua nuova e qual è questa lingua nuova la lingua dell'amore cioè è capace di dialogare di costruire relazioni con gli altri di vivere in relazione con gli altri babele se ricordate era la divisione delle lingue non ci si capisce più quando regna l'egoismo non ci si capisce quando il cuore colmo d'amore si capiscono prima gli altri e ci si capisce gli uni con gli altri e ancora prenderanno in mano serpenti san paolo durante la sua missione evangelizzatrice fu morso da una vipera e grazie a dio non ebbe alcuna sintomatica ma qui c'è qualcosa di altro la persona piena dello spirito santo che vive in comunione con il signore prende in mano le situazioni affronta le tentazioni e vince le supera affronta situazioni difficili e non soccombe perché non perché sei bravo tu ma perché dio opera in te sei forte della sua presenza e ancora se berranno qualcosa di mortifero non nuocerà loro si racconta che volevano avvelenare san benedetto egli preso il calice lo benedisse beve e il veleno non gli recò alcun danno ma oltre a questo significato immediato cosa ci può dire che tu puoi ritrovarti anche in un contesto velenoso o avvelenato fatto di pregiudizi di ideologie di situazioni negative ma se sei in comunione col signore non ti recano danno rimani saldo con la sua parola la sua presenza in te che ti rende capace di vivere bene nonostante il contesto difficile nel quale ti trovi ad esempio il signore mi renderà capace di portare speranza in un contesto familiare magari di musoni oppure di coinvolgere nel bene i miei amici o compagni senza fare il pecorone che si lascia trascinare al male oppure saprovvivere correttamente anche in un contesto un po' corrotto e di furbacchioni insomma il signore mi rende capace di diffondere il profumo della sua santità e ancora imporranno le mani agli infermi e questi ne avranno del bene in posizione delle mani indica il comunicare lo spirito santo quindi il beneficio che le persone hanno nel momento in cui un cristiano prega per loro si prende cura di loro perché perché gesù opera attraverso di lui chiediamo la grazia di vivere con gioia questo giorno dell'ascensione rivolgendo sempre più i nostri cuori a lui perché pieni di lui possiamo lasciarlo agire attraverso di noi che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti